Violenta lite tra rifugiati, al parcheggio a piani, ennesimi disordini ieri sera intorno alle 22.30 segnalati da alcuni residenti al consigliere comunale di Treviso, Davide Acampora. Screzzi tra di loro, neppure troppo facili da comprendere, forse qualche piccolo furto tra disperati, un paio di scarpe, una coperta. Fatto sta che le volanti della polizia sono dovute intervenire nuovamente calmando gli animi e accompagnando il gruppetto in questura per l'identificazione. Le forze dell'ordine sono intervenute, hanno fatto l'ennesimo sgombero, ma il messaggio che voglio lanciare è che a mio parere e anche a parere di molti, lo sgombero, infine a se stesso, non è la soluzione che porta a una soluzione definitiva. Io chiedo che venga fatto sì lo sgombero, ma lo sgombero fatto però per spostarlo in una struttura magari, non so, chiusa oppure dargli una sistemazione. Alla fine questo problema chi l'ha creato? Questo problema l'ha creato lo Stato. Situazioni destinate a ripetersi finché i rifugiati, decine quelli che vivono al parco a piani, non troveranno sistemazione altrove. C'è un problema anche di sicurezza, cioè io sono stato contattato anche da cittadini che hanno paura a rincasare magari perché hanno parcheggiato lì alle 7 di sera, alle 11 quando vanno a riprendere la macchina, hanno paura anche se queste persone magari non fanno del male a nessuno, però comunque c'è sempre il timore, quindi ci sono diversi tipi di problema e mi chiedo un sindaco come fa a tollerare che nel suo comune ci siano quelle cose. Io se fossi il sindaco andrei dal prefetto e batterei i pugni sul tavolo, è inaudita, è una situazione inaudita.